benvenuti benvenuti a questa puntata di stampa e vangelo di venerdì 20 settembre del 2024 sono un po stanco stanotte ho fatto molto tardi partecipando alla trasmissione di paolo del debbio sarà una giornata un po tesa e lunga per la vicenda meggiugorie in più mi sento un po di malanni di stagione addosso non è anche una voce strepitosa ma mi perdonerete nottata un po agitato un po citata credo con un malanno di stagione incipiente ma non ho voluto rinunciare alla puntata di oggi tanto perché il vangelo è un vangelo meno noto di tante altre pagine il vangelo di oggi è l'avvio dell'ottavo capitolo del vangelo di luca che racconta la presenza in ruoli determinanti di alcune donne nella sequela di cristo ne cita tre il vangelo di luca citando maria maddalena giovanna susanna e il vangelo di oggi si caratterizza per questo elemento dei ruoli femminili così decisivi nel gruppo che segue cristo e questo mi ha fatto venire in mente che se c'è oggi un occidente saluto giampaolo furlan giacomo fruci che ha tantissime donne nei ruoli di preminenza saluto anche mario motta pensato il presidente della commissione europea ursula von derleyen presidente del parlamento europeo roberta mezzo la vicepresidente del parlamento europeo la pina picerno italiana commissario alto commissario della politica estera dell'europa caia callas saluto anche cristina zaccanti e gab di panzera poi se veniamo in italia presidente del consiglio giorgia meloni capo dell'opposizione ellis line insomma pensiamo agli stati uniti dove kamala harris da vice di biden ora è la front runner per la casa bianca insomma c'è un contesto dove le donne come nel vangelo di luca viene elencato hanno un ruolo preminente è sempre il contesto occidentale di radice cristiana negli altri contesti pensate al regime cinese tanto per dirne uno governo un miliardo e mezzo di persone le donne al vertice sono sostanzialmente inesistenti è un regime non maschile totalmente maschilista lo stesso nella tradizione indiana altro contesto da un miliardo e mezzo di persone e non sto neanche a citare i paesi islamici dove ovviamente il ruolo maschile è totalmente preminente saluto anche danilo orecchioni bagliocchi che si sa di stefano che cerca di trovare il tempo per avere cura di te guardate veramente non ho il tempo materiale per fare praticamente niente non è un susseguirsi continuo di come dire pubblici doveri e ovviamente con la preparazione che deve portare alle questioni pubbliche di cui mi occupo e sì sono un po' stanco userò il weekend più che altro per rimettermi il sesto perché ripeto credo che un malanno sia di stagione stia arrivando saluto anche la vigna oliveri bene questo protagonismo femminile particolare europeo mi ha fatto accendere una luce leggendo le prime pagine dei quotidiani e collegandole alla pagina di vangelo di luca che appunto mette le donne così determinanti e in effetti l'europarlamento guidato da roberta mezzola maltese ha votato ieri a stragrande maggioranza una risoluzione non vincolante perché l'europarlamento in realtà ha un potere molto blando ha votato una risoluzione non vincolante sull'uso delle armi in ucraina il sostegno al regime di kiev che deve arrivare al 0,25 per cento del pil secondo questa risoluzione in italia sono 5 miliardi ricordatevi che un punto di pil in italia sono 20 miliardi quindi 0,5 per cento 0,25 per cento un quarto di punto di pil sono 5 miliardi da dare all'ucraina così solo di armi la germania ne ha già dati sette tanto per capirci solo di armi ed è il secondo fornitore di armi più importante del mondo all'ucraina dopo gli Stati Uniti e anche lì c'era una donna che era un pochino più accorta che si chiama Angela Merkel che ha lasciato invece la carcelleria tedesca a questo social democratico un esponente dell'SPD che sarebbe il PD tedesco che si chiama Olaf Scholz che da tre anni ha mandato in vacca l'economia tedesca che da locomotiva d'Europa è diventata oggi un punto di recessione europea con delle conseguenze che vedremo di affrontare in questa puntata di Stampevangelo che vi vuole preparare al voto di domenica perché domenica si vota in Brandeburgo e sapete che qui noi cerchiamo di dare le notizie prima che accadano e il voto in Brandeburgo è molto importante saluto Gian Paolo Furlan che dice che il malanno potrebbe essere causato dalle cretinate sentite ieri dalla trasmissione del debito ho partecipato anch'io alla trasmissione cercando di tamponare un po' di falle nella narrazione di Dritte Rovesh ma insomma ho messo una clip prima di questa diretta che potete poi guardare e giudicare voi stessi dicevo si vota domenica in Brandeburgo vi ricordate che ho fatto puntate che anticipavano l'esito del voto in Turinja, in Sassonia spiegavo il valore di quel voto dove la SPD di Olaf Scholz ha preso rispettivamente il 6 e il 7% è reduce da lezioni europee dove ha preso il 14% ma attenzione il Brandeburgo è un po' l'Emilia Rossa della Germania da quando c'è stata l'unificazione con il crollo del muro di Berlino nel 1989 sono 35 anni che governa sempre la SPD, primo partito e espressione del carcellierato del Brandeburgo ripeto Olaf Scholz vive a Potsdam che è la capitale del Brandeburgo saluto anche Giuseppe Loiacono, Cosimo Leggero e adesso sta succedendo una cosa strana si vota in Brandeburgo e per la prima volta dopo 35 anni la SPD potrebbe perdere il Brandeburgo per cercare di salvarlo sapete cosa hanno fatto? i leader locali della SPD hanno detto al cancelliere Olaf Scholz di non farsi vedere in giro non venire a fare campagna elettorale quello che nei quotidiani tedeschi io leggo spesso la Bild Frankfurt-Algemeier si usa esprimere come canceller bonus il canceller bonus sarebbe quell'effetto di voto in positivo che la campagna elettorale fatta da un cancelliere tedesco in un territorio per un'elezione regionale comporta è stata trasformata nella stampa tedesca nella definizione canceller minus un po' sfottente diciamo così quindi il canceller bonus non solo non c'è ma se va a fare campagna elettorale il canceller Scholz causa un minus cioè un abbattimento dei voti alla sua SPD per cui la SPD locale ha chiesto per favore al cancelliere tedesco che pure vive a Potsdam che è la capitale del Brandeburgo dove vive con la moglie che peraltro è un attivista anche lei della SPD la richiesta è stata di non farsi vedere in giro pensate un po' che tipo di rispetto può avere questo cancelliere tedesco che ha perso le europee 14% ha perso la Turingia e la Sassonia 6-7% se domenica alle 20 perde il Brandeburgo signori le dimissioni di Olaf Scholz è il terremoto dell'equilibrio politico tedesco che regge su questa famosa coalizione semaforo rosso per i socialdemocratici verde per i grunen giallo per i liberali beh la coalizione semaforo va a farsi benedire e forse la causa è anche questa ostinazione a voler votare per esempio le emozioni dell'Europarlamento a favore delle armi in Ucraina dove la Germania è principale fornitore dopo gli Stati Uniti saluto Riccardo Orlandi Teresa De Cesare interessate a farci sapere che Vannacci non ha votato la risoluzione va detto che l'articolo 8 della risoluzione quello che diceva armi all'Ucraina senza limiti di utilizzo nella Russia è stato votato praticamente unitariamente da tutti gli europarlamentari italiani da tutti gli europarlamentari fratelli d'Italia da tutti gli europarlamentari della Lega da tutti gli europarlamentari di Forza Italia tranne Salini da tutti gli europarlamentari del PD tranne Lapina Picerno che vi ho citato prima che è vicepresidente dell'Europarlamento che invece ha votato a favore insieme a un'altra donna che si chiama Elisabetta Gualmini curiosamente mentre il capo delegazione che è Nicola Zingaretti ha votato come Fratelli d'Italia come la Lega come Vannacci come anche tutta Forza Italia la maggioranza del gruppo PD ha votato come ha detto il capo delegazione no no Vannacci non ha mentito Teresa ha detto la verità ha votato come tutti gli altri cioè l'articolo 8 che era la determinazione dei limiti all'utilizzo rimossi per l'utilizzo sulla Russia curiosamente non l'ha votata si è proprio tolto di mezzo non si è fatto trovare Marco Tarquinio che aveva la posizione pacifista quando il PD adesso si è adeguato alla posizione chiamiamola pacifista di dire no all'utilizzo delle armi sulla Russia Tarquinio si è fatto di nebbia e non ha votato sul voto complessivo sulla mozione quindi una cosa è il voto sull'articolo 8 che era l'articolo del limite dell'utilizzo sul voto complessivo della mozione che diceva aiuto all'Ucraina nei limiti dello 0,25% del PIL per l'Italia 5 miliardi il PD ha votato a favore e anche qui Tarquinio ha scelto l'astensione invece di assentarsi dal voto era presente ma si è astenuto devo capire bene un europarlamentare che ha fatto tutta la campagna per il pacifismo perché quando il PD sull'articolo 8 si schiera col suo capodollegazione e il massimo numero di europarlamentari sulla linea del no a usare le armi in Russia scompare dal voto non vota insieme al PD e non vota insieme al PD neanche sul voto generale dove il PD vota sì e lì si astiene comportamenti un po' bizantini sicuramente poco chiari da parte di Marco Tarquinio mi verrebbe da chiedergli cosa gli frulla in testa ma comunque Scholz e la SPD invece votano a favore di tutto questo producono un disastro cioè la Germania è in recessione hanno un enorme problema di scarso consenso per usare un eufemismo da destra a sinistra da Alternative Ford Deutschland fino alla BSV che viene dall'estrema sinistra della Linke eppure Scholz non riesce a sganciarsi da questo treno in corsa verso il Burrone e vedremo domenica sera alle 20 segnatevi questo orario tra due giorni alle 20 se il terremoto tedesco in Germania verrà completato perché no se perdono nel Brandeburgo se Alternative Ford Deutschland supera la SPD nel Brandeburgo la possibilità di Scholz di mantenere la cancelleria tedesca dopo una infinita serie di sconfitte che culminerebbe nella sconfitta della sua roccaforte beh inevitabilmente dovrebbe produrre le dimissioni del cancelliere e inizierebbe il terremoto consigliate che in Francia Macron da due mesi sta cercando di fare un governo e forse ci riesce anche lui nel weekend ma sono trattative estenuanti e una maggioranza non riesce a trovarla alla fine dovrà fare sponda anche sull'odiata Marine Le Pen Joe Biden sappiamo in che condizioni sta e ci sono le versioni americane 45 giorni dopo quelle del Brandeburgo siamo diciamo alla vigilia di un terremoto politico che evidentemente l'Europarlamento non sa cogliere forse l'hanno colto meglio i gruppi italiani ripeto sull'articolo 8 cioè espansione dell'uso delle armi senza limiti sul territorio russo Fratelli d'Italia Lega Forza Italia con l'eccezione di Salini la stragrande maggioranza del gruppo del Partito Democratico di Movimento 5 Stelle e di Alternativa Verdi Sinistra ha votato contro l'articolo 8 il resto della sinistra a partire dal traino che il gruppo del socialismo europeo ha da parte della SPD ha invece votato a favore della non solo della fornitura di armi non solo dello 0,25% del PIL annuale di fornitura di armi a Kiev ma anche per l'utilizzo delle armi sul territorio russo Domenico Calo dice non è anticostituzionale la fornitura di armi a un paese in questo caso per fini aggressivi ma a me sembra che l'incostituzionalità anzi come si dice sia stata ormai superata da un pezzo ma nessuno solleva la questione quindi si viola l'articolo 11 della Carta Costituzionale in bellezza Francesca Giorgici buongiorno a tutti grazie Mario per il tuo prezioso servizio chi è che vi legge la Bild vi legge la Frankefurter l'Algemeine vi definisce la differenza fra Canceler Bonus e Canceler Minus vi racconta delle elezioni in Brandeburgo con due giorni d'anticipo vi fa sapere che sono 35 anni che in Brandeburgo vince la SPD e vi fa sapere che a Potsdam capitale del Brandeburgo vive il carcelliere tedesco Scholz quindi vi prepara a notizie e fra due giorni faranno il giro del mondo se ne accorgeranno anche i giornali italiani ma chi segue Stampe e Vangelo tutto questo lo viene a sapere prima e forse questa è la ragione per cui tanti di voi seguono quello che qui diciamo Giovanni Tisei che non è un mio simpatizzante dice a me pare che per ora sia la Russia a fare la guerra magari sbaglio beh no c'è l'intero occidente o se preferisci la Nato che è in guerra sostanziale con le sue armi contro la Russia cosa che non ha mai portato bene la guerra dall'occidente verso la Russia sono un po' di secoli che non si risolve con la sconfitta della Russia io dico sempre istoria est magistra vite ma qui non sembrano capirlo per me Olaf Scholz sarà uno degli ennesimi scalpi che la Russia si prende di un altro tedesco dopo uno diciamo un po' più famoso che andò a sbattere il muso sulla guerra alla Russia e Olaf Scholz secondo me dopo le lezioni di domenica alle ore 20 in Brandeburgo quando avremo risultati ci accorgeremo della musata che ha preso per la scelta di essere il principale fornitore militare all'Ucraina dopo gli Stati Uniti principale fornitore europeo anche più della Gran Bretagna che è tutto dire Natalina Minus dice grazie Mario per l'enormità del tempo che ti sottrai per noi veramente non ci sono parole sono ore e ore e ore di lavoro perché ovviamente non è che la Bild o la Frankfurter o le analisi sulle elezioni in Brandeburgo o lo studio analitico di come hanno votato gli europarlamentari italiani sulla mozione di ieri perché guardate bene che la comunicazione lo dicevo già da ieri sera è stata maggioranza divisa sul voto sulle armi e se uno poi invece come me che c'è un po' di curiosità si va a guardare effettivamente come è strutturato il voto si accorge che sull'articolo 8 hanno votato tutti insieme maggioranza unitissima solo Massimilio solo il buon parlamentare di Forza Italia Salini non ha votato come la maggioranza sull'articolo 8 della risoluzione e persino il PD Movimento 5 Stelle e Bonelli Frato Ianni hanno votato come la maggioranza quindi che state a dire mi verrebbe la titolazione anche il racconto rispetto a quello che è successo all'Europarlamento se uno studia un po' si accorge che è un po' diverso da quello che viene raccontato sui giornali e stampa Evangelo serve a fare questo oggi ho letto la pagina di Evangelo che elenca le donne protagoniste della sequela di Gesù e ho pensato subito alle donne protagoniste ormai assolute del potere europeo Ursula von der Leyen Roberta Mezzola Caglia Callas Lapina Picerno che fa il vicepresidente italiana più alto in grado vicepresidente del Parlamento Europeo ma anche Giorgia Meloni Ellie Schlein va detto che la posizione di Meloni e di Schlein sull'articolo 8 di quella risoluzione era identica ma non ho trovato un cavolo di giornale che lo dicesse per cui ve lo sentite dire solo a stampa Evangelo e a me sembra interessante incamerare questo dato c'è un editoriale del Corriere della Sera che parla di ambiguità dell'Europa non c'è tanta ambiguità la mozione è passata con oltre 400 voti favorevoli c'è stato uno scarto di una cinquantina di voti rispetto all'articolo 8 che ho citato però l'Europa trainata proprio dai tedeschi ha votato a favore sia delle armi che dell'utilizzo delle armi verso la Russia e secondo me questa cosa sarà pagata da Scholz dal cancelliere tedesco nel voto Brandeburghese di domenica però questi link che a me sembrano sempre molto naturali molto immediati metti insieme dei pezzetti di puzzle per cercare di fare un racconto organico di ciò che sta accadendo sui giornali italiani non c'è io vedo il Corriere della Sera fa l'apertura l'apertura della prima pagina sul voto rispetto alla mozione sulle armi all'Europarlamento ma non vi spiega niente è interessato solo a dirvi che i partiti di governo sono divisi Gian Paolo Furlano e ti pareva che per i nostri giornali i partiti di governo non fossero divisi nel voto in Europa in realtà i partiti di governo sul punto cruciale che era l'articolo 8 di quella risoluzione non solo erano uniti ma erano uniti con i partiti dell'opposizione è una cosa abbastanza interessante forse è un po' da sottolineare non vi sembra molto più una notizia il fatto che Fratelli d'Italia Forza Italia Lega PD Movimento 5 Stelle e Brunelli Fratoianni abbiano sostanzialmente sull'articolo 8 votati tutti uguali con alcune eccezioni cioè hanno votato tutti contro l'articolo 8 quindi contro l'utilizzo senza limiti delle armi sul territorio russo e guarda caso chi è che si assenta dal voto Marco Tarquinio ma che i cattoli sono diventati proprio quelli che una parola chiara non la vogliono dire mai è abbastanza curioso come dire strano il racconto perché il racconto poteva forse doveva giornalisticamente essere tutt'altro che è esattamente quello che sto dando qui un'Italia compatta in una posizione abbastanza chiara contro l'uso delle armi di tutte le forze politiche nel territorio russo e questa mi pare una super notizia da nessuno sottolineata così come era una super notizia il traino tedesco invece al voto a favore alla complessiva mozione con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che non puoi non dire che fra due giorni c'è un'elezione decisiva in Brandeburgo dove la espede del Brandeburgo non vuole che si faccia vedere perché i giornali tedeschi scrivono che da canzler bonus è diventato canzler minus cioè la presenza del cancelliere sul territorio del Brandeburgo dove lui abita dove la espede ha sempre vinto è considerato un handicap per la espede stessa del Brandeburgo ma a me sembra queste cose debbano essere dette in un discorso giornalistico normale che non abbia un'ottica partigiana ma semplicemente voglia rendere tutti i cittadini di ciò che sta accadendo spiegando bene quel che accade e anche quel che accadrà tra poche ore perché si comincia a votare in Brandeburgo tra 36 ore quindi anzi già si è cominciato per posta se volete saperlo il mailing vote è già stato reso operativo in Brandeburgo a me sembra che questo racconto che facciamo a stampa evangelo sia fattuale sia aderente alla verità ancora una volta non contestabile e forse vale la pena seguire questo tipo di racconto piuttosto che le opposte faziosità dei vari giornali aderenti alle linee di partito per interessi specifici dei loro editori così mi viene da dire che proprio sul piano dell'informazione abbiamo una lacuna in Italia enorme per quel poco che possiamo fare qui a stampa evangelo proviamo a colmarla anche avvertendovi prima delle notizie che arriveranno perché vi accorgerete tra 48 ore che l'esito delle elezioni in Brandeburgo sarà un terremoto per l'Europa se l'esito sarà quello che vi anticipo cioè di un possibile clamoroso e storico sorpasso di Alternative for Deutschland su SPD nella regione che circonda Berlino tradizionalmente da sempre da quando la Germania Unita legata al governo proprio dei socialdemocratici tedeschi della SPD e del partito di Olaf Scholz se perdono pure il Brandeburgo dove aver preso il 6% in Turinja il 7% in Sassonia il 14% all'europea Olaf Scholz francamente non potrà non rassegnare le dimissioni da cancelliere tedesco e questo vedrete sarà uno scacco e quindi alla puntata prossima di Stampevangelo che è la puntata di lunedì 23 settembre avremo qualcosa da dire ma almeno ci saremo preparati non dovrò fare tutta la lezione su che cos'è il Brandeburgo che invece faranno i giornali lunedì cioè a cose fatte senza aver preparato i lettori e senza aver costruito connessioni sul perché poi Olaf Scholz sia in così tragica difficoltà ancora usando l'ispirazione del Vangelo di oggi una donna come Angela Merkel aveva tenuto per 16 anni nessuno così tanto nella storia delle democrazie è stato consecutivamente premier un cancelliere e meno che mai una donna quindi anche la Merkel davvero protagonista assoluta facendo diventare la Germania locomotiva d'Europa in tre anni Olaf Scholz ha distrutto tutto e che racconta la subalternità dei maschi e delle sinistre mediamo così o se preferite dei maschi di sinistra rispetto alla saggezza della signora Merkel che per quanto riguarda la tutela degli interessi tedeschi era fin troppo diciamolo così capace di essere tetragona anche a scapito poi magari degli interessi di altre nazioni compresa l'Italia però Olaf Scholz in soli tre anni ha demolito letteralmente demolito la Germania in questo momento in recessione l'industria perde il 2% quando uno pensa l'industria tedesca viene in mente la locomotiva d'Europa invece perde il 2% se voi come me leggeste la stampa tedesca vi consiglio la Bild vi consiglio Frankfurt e l'Algemeine scoprireste che esistono dei veri e propri travasi di lavoratori a migliaia dall'industria manifatturiera c'era un articolo che mi aveva colpito l'altro giorno proprio sulla Frankfurter perché a Düsseldorf c'è la Continental che forse conoscete per qualche spot che si vede in Italia che è una importantissima azienda tedesca di componentistica per automobili che ha scaricato 7 mila lavoratori dove nel comparto della difesa nelle armi capite perché quello sta diventando il comparto trainante anche per via del fatto che la Germania è principale fornitore di armi all'Ucraina principale europeo secondo solo agli Stati Uniti quando io vedo che dall'industria manifatturiera si passa all'industria delle armi in Germania io un attimino di preoccupazione la coltivo istintivamente da studioso di storia e mi chiedo come possa un governo di sinistra perché quello di Olaf Scholz sarebbe un governo di sinistra aver privilegiato questo tipo di politiche industriali rispetto al sostegno dell'industria manifatturiera e della classe operaia come si diceva con linguaggio di una volta però effettivamente vi posso dire che la SPD è in grave difficoltà rispetto alla raccolta del consenso proprio per queste scelte fatte negli ultimi tre anni dal governo guidato dal cancelliere Olaf Scholz vedremo se domenica sera questo governo sarà arrivato al capolinea per via del risultato delle elezioni in Brandeburgo o se il fatto che Scholz non si sia fatto vedere nella campagna elettorale come richiestogli dai dirigenti della SPD del Brandeburgo abbia fatto diciamo così reggere la diga di Potsdam ai dirigenti della SPD locale vediamo quale sarà all'esito effettivo lo sapremo lo ripeto alle ore 20 di domenica e poi lunedì mattina se mi passa questo febbrone che sento che sta arrivando e la gola è abbastanza arrivata pressa perché ho dovuto chiacchierare tanto ieri in più di una trasmissione televisiva beh allora faremo la puntata di Stampe e Vangelo e potrò raccontare effettivamente tutto quello che è accaduto però la cosa bella è che voi lo sapete già sapete già cosa dovete andare a guardare domenica sera sapete già perché è così importante sapete già quello che i giornali invece non vi hanno raccontato quanto siano collegate la votazione che c'è stata all'Europarlamento sulla risoluzione delle armi e le vicende di Potsdam del Brandenburg della SPD tedesca abbiamo provato a costruire questo puzzle che l'informazione italiana non vi costruisce e spero che essendo passati dalla lettura di SPD di Bild di Frankfurter Allgemeine delle fonti ufficiali delle votazioni del Parlamento europeo per raccontare come effettivamente ha votato la delegazione italiana all'Europarlamento unitariamente lo ripeto in maniera sostanziale tutti i partiti contro l'articolo 8 che espandeva l'utilizzo al territorio dell'Unione della Russia senza limitazioni delle armi consegnate all'Ucraina ebbene questo è quel tipo di informazione che credo potete ottenere solo da qua anche se poi le prime pagine ripeto questa è notizia di apertura di prima pagina mercoledì della sera è in prima pagina su tutti i giornali il voto dell'Europarlamento sulla risoluzione non vincolante peraltro sulle armi all'Ucraina eppure tutte queste spiegazioni collegate nei giornali non le ho trovate spero che vi siano utili e spero che le consideriate un modo di fare informazione più completo e anche forse più interessante da seguire ringrazio Stefano Pallini che dice grazie per il tuo lavoro unico che apprezziamo molto io adesso non ando a mettere sotto le pezze con un tè caldo e un po' di miele perché veramente devo aver sforzato troppo le corde vocali e mi sento col malanno dell'autunno incipiente visto che domani se non ho contato male comincia la stagione autunnale e la comincerò probabilmente con un bel febbrone perché il mal di gola me lo sento già tutto e quindi chiuderò gli occhi per 48 ore e mi riposerò un po' e questa settimana è stata parecchio faticosa grazie a tutti per aver seguito anche questa puntata spero che questa settimana di Stampe Vangelo sia stata utile abbiamo fatto due puntate sulla vicenda di Chiara ragazza di Traversetolo nella questione abortiva sappiate che alle 11 c'è una conferenza stampa della procura di Parma che ha deciso di arrestare Chiara questa ragazza di 22 anni sarà arrestata anzi è stata arrestata c'è una conferenza stampa a Parma che comincia tra 27 minuti me la vado a seguire per cercare di capire effettivamente i tratti di questa vicenda in cui pare sia anche coinvolto l'uso dell'ossitocina per indurre il parto sempre più chiaro diciamo un fatto che definirei aborto post nascita per usare le espressioni di un saggio che ho citato in una delle puntate di Stampe Vangelo mi intristisce molto quello che sta accadendo a Chiara perché non accade rendendo chiari a tutti invece i limiti insiti nella costruzione di una cultura generale che accetta la soppressione della vita nascente e indica ai figli come elemento di intralcio dell'autodeterminazione della donna questo lo ripeto a chi esulterà perché ho già letto frasi di esultanza per l'arresto di Chiara se Chiara avesse abortito quei due figli nessuno ne avrebbe detto niente mi devono spiegare mi devono continuare a convincere del fatto che sopprimerli un minuto dopo la nascita sia diverso che sopprimerli nel ventre la verità è che i bambini sono soggetti di diritto dal momento in cui sono concepiti perché ciascuno di noi è stato quel bambino unico e irripetibile dal momento in cui è stato concepito se su questo non riusciamo a costruire una giornata di chiarezza allora esultare perché restano Chiara è davvero qualcosa di crudelmente insensato Giacomo Frucci dice un po' di riposo mi farà bene speriamo davvero Danilo Orecchioni Bagliocchi dice se la Juve perde ti sfotto lunedì speriamo proprio di riuscire a cavarcela con il Napoli Mara Laruccia scrive credo che dalla prossima settimana assisteremo ad un crollo del governo Schultz e benvenga Mario Motta riguarda della diretta se la considerate utile sui vostri profili affinché venga vista anche dai vostri amici e poi il link ovviamente nelle varie chat e nei vari contesti in cui ciò di cui parliamo ritenete possa essere utile e interessante da sapere noi con Stampevangelo ci rivediamo lunedì vado a mettermi sotto le pezze saluto anche Barbara Ficus che ha fatto in tempo ad arrivare per il finale e poi lunedì commenteremo insieme l'esito delle elezioni in Brandeburgo che credo terremuteranno gli assetti politici tedeschi e di conseguenza quelli europei e mondiali e voi lo sapete già da oggi grazie a Stampevangelo